Il sistema produttivo inizia a credere nella ripresa economica attesa per il 2015. Quasi il 48% delle imprese del nostro paese interpellate da Union Camera nell'ambito dell'indagine realizzata ogni anno dai sistemi camerali europei confide in una sostanziale stabilità degli affari. Il 27,7% invece ritiene che le cose andranno meglio, mentre un ulteriore 24,4% si mostra pessimista. Il sentiment complessivo comunque torna positivo, visto che la differenza fra attese di aumento e di diminuzione del giro di affari è pari a 3,3 punti percentuali. Un bel recupero quindi rispetto ai 12,8 punti percentuali che accompagnarono un analogo giudizio relativo al 2014, ma ben al di sotto dei 10,6 punti di saldo registrati come media tra tutti i paesi che hanno partecipato alle indagini. Le nostre imprese, soprattutto quelle internazionalizzate, sperano davvero che il 2015 sia l'anno conclusivo di questa lunga e difficile crisi, sostiene il presidente di Union Camera, Ferruccio Dardanello, che conclude, quest'anno l'Italia avrà appuntamenti importanti, primo tra tutti l'Expo, una straordinaria vetrina che proietterà le immagini del nostro paese nel mondo. Mi auguro che essa contribuisca a rilanciare anche il mercato interno che mostra ancora grandi segni di sofferenza. Grazie.